Un folle in seguimento per le vie di Anghiari nel tentativo di sfuggire ai carabinieri che ha creato attimi di panico nel borgo della Valtiberina. Erano infatti quasi le 16.30 di ieri quando le telecamere di sorveglianza installate nella zona hanno segnalato la presenza di una macchina fortemente sospetta. I carabinieri si sono subito messi sulle sue tracce fino a quando l'hanno trovata nel territorio di Anghiari, una delle zone che in questi giorni è stata bersagliata dai furti. Ma quando gli occupanti della Citro e Berlingo, Grigia, si sono accorti di essere seguiti, si sono dati ad una rocambolesca e pericolosissima fuga tra le strade di Anghiari. I malviventi con i militari alle costole sono riusciti ad arrivare a Santa Fiora, frazione del comune di Sansepolcro, molto probabilmente per tentare di imboccare alla E45, ma non ci sono riusciti. Nel frattempo infatti sono arrivate da ogni parte tutte le pattuglie dell'arma disponibili. A questo punto la banda ha speronato un furgone nell'ennesimo tentativo di seminari carabinieri diretti verso la zona industriale. Tre capannoni infine hanno imboccato un sentiero che però terminava con una recinzione. È iniziata così la fuga a piedi. Tre malviventi sono riusciti a scavalcarla, mentre l'unica donna del gruppo non è riuscita a fuggire ed è stata subito arrestata con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale, ricettazione e possesso ingiustificato di materiali da scasso. La macchina, utilizzata per la fuga, aveva infatti il portabagagli ricolmo di refurtiva, generi alimentari e borse griffate da donna probabilmente rubate e tanti attrezzi idoni allo scasso.